Un'amministrazione che potrà contare su una maggioranza mai vista a Biceglie. Angelo Antonio Angarano, proclamato ieri sindaco con una cerimonia in piazza Vittorio Emanuele, sente il peso della responsabilità, ma anche il calore del sostegno dei suoi concittadini. Francesco Rossi. Noi abbiamo attraversato tutta questa campagna elettorale tra la gente, abbiamo fatto tanti comizi, tanti momenti di incontro, tour dei quartieri e ci sembrava giusto, opportuno e davvero anche simbolico chiudere questa campagna elettorale con la proclamazione in piazza, con la gente, tra la gente e condividendo questa grandissima emozione. Abbiamo già fatto riunioni con i dirigenti, abbiamo l'estate alle porte, c'è tanto lavoro da fare per sistemare la litoranea e le spiagge. La bandiera blu è un bellissimo riconoscimento, ma ci responsabilizza molto e quindi dobbiamo assolutamente recuperare il tempo perso e ovviamente poi ci sono tutti i cantieri da riaprire in primis, la biblioteca comunale e il teatro Garibaldi, che non vediamo l'ora di riconsegnare alla città. Ci sono varie anime e varie identità politiche, è sempre utile adottare il metodo del confronto più ampio e più serrato ed è quello che stiamo già facendo in questi giorni perché vogliamo variare la giunta al più presto possibile. Non ci saranno assolutamente problemi, c'è il confronto, ma è un confronto che ci sta arricchendo tanto e che quindi ci dà molta speranza per il futuro perché è una compagine così ampia e sinonimo anche di stabilità, ma soprattutto di prospettive politiche importanti. La responsabilità è di guidare una squadra così forte, così importante, ma è una squadra composta da persone capaci, determinate, molto motivate, soprattutto tantissimi giovani e candidati, consiglieri comunali ormai alla prima esperienza. E questa è la responsabilità più grande, quella di formarli immediatamente, di renderli capaci e in grado di svolgere a pieno il loro loro, però sono ovviamente così in gamba e così motivati che questo non sarà un problema. L'impegno, quello che prendiamo tutti quanti insieme, è quello di realizzare al più presto le importanti opere del PNRR che cambieranno il volto della nostra città. Sono quello ormai il nostro futuro, su quello dobbiamo puntare, siamo stati capaci in questi anni di attrarre tantissime risorse e adesso dobbiamo funzionalizzare le opere alla visione complessiva che abbiamo dalla città.